Allora, bentrovati al 19 dicembre, questo strano sabato dunque nel quale entrano in vigore alcune regole e altre le attendiamo. Buongiorno Stefania, buongiorno Emilio, Simona, Enrico, spero oggi di riuscire Massimo e Franca di vedere anche i commenti, non so perché ieri non li vedevo. Ciao Tony, mi raccomando la regia lunedì sera di Ring, grande regista di Ring collegato con Lavarino. Allora, cosa succede? In questo 19-12-2020 oggi siamo veramente davanti alle più strambe regole, buongiorno Max, che ci potessimo immaginare. Ma perché? Allora, più volte anche qui insieme ci siamo detti, ciao Alessandra, Alessandro, che forse era più semplice fare per l'ultima volta un lockdown decente, con delle regole normali, con qualcosa di comprensibile e per evitare la terza ondata da gennaio. Ciao Tiziana, buongiorno. Allora, perché? Perché adesso è tutto un macello di cui non si capisce niente, quindi dopo il termometro, dopo il saturimetro, dopo l'ossigeno, dopo non so quale altra cosa, o da oggi sarà necessario il righello, il goniometro e capire come diavolo muoversi, se ci si può muovere, quando ci si può muovere da un comune più piccolo, con 5.000 abitanti, verso uno un po' più grande, però soltanto in una certa direzione, non andare verso il capoluogo di provincia. Insomma, è un macello, oltre a questo i congiunti che sono soltanto due, ma allora sì, perché hanno fatto un misto? Grande tour in provincia di Bari. Vedete, poi molti si sono anche spostati, giustamente, anticipando queste vacanze, perché i divieti sono poi previsti. Allora, voglio solo tornare, se no non ci capiamo veramente più nulla, di normale cosa c'è davvero in questo governo, dice Ida. Certo, allora, siamo riusciti a fare un mix, dicevo, di queste regole, per cui Conte voleva soltanto alcuni giorni rossi, gli altri tutti gialli. Il PD invece è arrivato in Consiglio dei Ministeri, è stato il macello vero, due ore praticamente di ritardo, 70 minuti, 75, non mi interessa. Ho fatto in tempo a partire da Padova, ritornare a Trieste e ritrovare tutto quello che ancora doveva cominciare, ancora non era partito Conte. Speravo di sentirmelo alla radio in autostrada, invece niente, è partito alle 9 e mezza, a quei suoi orari, con grande rispetto. Per fortuna ci sono gli organi di informazione che almeno hanno, durante il pomeriggio, pubblicato le anticipazioni, raccontato nei servizi TG, ma finché noi non lo vediamo e non lo sentiamo dal Premier Conte, non possiamo capire quanto sia vero con le sue slide. Poi arriviamo al decreto di storia, cioè ai soldini che dicono aver messo. Perché è un casino? Perché praticamente Conte, vi dicevo, voleva una cosa e magari anche meno restrizioni. Il PD è arrivato lì dicendo no, non bastano, rischiamo la terza ondata, cosa che dice anche Arcuri di nuovo oggi nell'intervista su Repubblica. Immaginate voi come facciamo piano vaccini in pericolo se a gennaio ci sarà la terza ondata. Tanto sappiamo già che è colpa nostra, perché invece che i due congiunti l'avremmo fatti due, perché invece che recarsi una volta verso un'abitazione privata, una volta verso un'abitazione privata, quindi noi possiamo recarci una volta verso un'abitazione privata, quindi una volta immaginiamo verso casa dei amici o parenti. Ma questa cosa, ovviamente se ti beccano, diventa una volta, se no lo si fa più volte. Ma lasciamo perdere l'inganno rispetto alle regole che facilmente si può trovare. Ma è il macello di queste regole. Cioè è la confusione totale invece di fare una cosa semplice, lineare, molto più chiara. Per tutti invece abbiamo incasinato il goniometro, il righello, i 5.000 abitanti, i 30 chilometri che magari soltanto intorno, però no verso il capoluogo, soltanto le due persone, i giorni festivi, i prefestivi, gli altri che cosa succede. E oggi c'è anche l'ordinanza di Luca Zaia. Perché non dimentichiamo e aspettiamo appunto alle 12.30, quando il governatore sarà in diretta, lo seguiremo anche su Antena 3, su questa pagina, Ornella, per capire che cosa succede. Perché è vero che c'è anche quella famosa ordinanza che poi abbiamo detto, certo non avrebbe spostato chissà quali grandi contagi, perché ricordatevi che dai dati di ieri dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Analisi ci sono tutti gialli, ma ancora diciamo tre regioni in difficoltà a particolar modo, che sono con l'indice RT che sale, comunque condizioni critiche, Lazio, Liguria e Veneto. Due di queste sempre, l'abbiamo detto, Lazio e il Veneto, sempre gialle tra l'altro fino ad adesso. Però il sistema a colori, ha detto Giuseppe Conte, sedendosi lì ieri il Premier, il, ve lo leggo, il sistema a zone ha funzionato. Ma va bene, certo l'RT è sceso, ora sta risalendo tra l'altro negli ultimi giorni, ma il problema è questa agonia, è questa agonia, il titolo che ho visto, avete postato tutti anche sulla mia pagina, è arrivato il mio sms, ma lo diciamo da settimane, che per evitare le chiusure a Natale dovevamo faticare con i colori in questi mesi. Allora, il sistema a colori ha funzionato, abbiamo ridotto l'RT, ma il risultato qual è? Che ora stiamo facendo le chiusure molto peggiori rispetto ai colori di questi mesi. Quindi prepariamoci il righello, questa confusione totale. Quindi dobbiamo capire, perché c'è l'ordinanza di Luca Zai, stavo dicendo, che dalle 14 vieta gli spostamenti tra i comuni, tranne che per le solite ragioni. Siamo noi italiani a complicarci la vita. Lo so, Ida, ma non può diventare che è colpa nostra. Cioè, non può diventare che è colpa nostra. E questo è il problema, perché io credo che la maggior parte delle persone si attenta, che la maggior parte delle persone cerchi di, e non contagiare i propri parenti, cerchi di evitare di contagiare se stesso, anche se poi sappiamo, purtroppo, è molto facile, come ci dicono, contagiarsi. Quindi cerchiamo di capire se oggi l'ordinanza Luca Zai la ritirerà o meno, perché questo è un dato molto importante, perché rischia di intervenire ulteriormente là dove ci sono queste regole. Poi in realtà, sentiti i costituzionalisti, dicono no, attenzione, quella di Zai avvale 19-20-21, quando partono le nuove regole con questo decreto, diciamo, nazionale, quello regionale decade. Ma insomma, non mi hanno detto quando dovevo spegnere la luce, è grande. Il risultato potrebbe essere questo, molto facilmente. Cioè, quindi, c'è l'intervento del decreto nazionale, quello regionale verrà tolto. Io immagino, e oggi è il weekend, è più problematico, perché tutti correremo a spostarci per andare al sud, al nord, dove in montagna, dove vogliamo andare, perché per evitare le regole dal 21 non ci si sposta tra le regioni. Perché non abbiamo comprato i regali? Io ho compreso, ovviamente, quindi bisognerà andare a comprare i regali, quindi saremo tutti in centro e con poco effetto anche delle ordinanze, per esempio, come quella di Padova. Certo, forse poco di più poteva fare, però a vietare, abbiamo detto, il sindaco Giordani alle auto di circolare all'interno delle mura cittadine significa che rendiamo più complicato le persone residenti dei comuni limitrofi arrivare a Padova. Comunque, ascoltiamo Zai alle 12.30 per capire che cosa ha detto, cioè che cosa succederà. Un altro paio di cose molto interessanti per quanto riguarda i rimborsi. Mette 645 milioni di euro, ha detto, e questo è il motivo del ritardo di queste due ore. Quindi il mondo appeso, i palinsesti delle televisioni appese all'arrivo del Premier Conte che stava litigando in realtà con una parte di governo, poi ci dice, l'abbiamo sentito nella ricostruzione infatti delle regole studiate, invece poi ci dice, no, è perché stavamo pensando i ristori, qualcuno forse se ha visto il video di ieri ricorderà che abbiamo citato i dati di Confesercenti, sì, Confcommercio, mi ricordo, Confcommercio, cioè insomma i ristoranti. Cosa volevano mettere? 2.645 milioni per ristoro 100%, come fatto fino ad adesso, ma non il 100% del perso ovviamente, per ristoranti e bar. Ma c'è un solo problema, ieri abbiamo citato i dati del Natale, il solo pranzo di Natale garantisce storicamente un incasso di 300 milioni di euro ai ristoranti. Quindi noi stiamo mettendo la metà, ma per tutto il tempo, tutto il periodo di questo lockdown, quando ci sono 15 giorni di fatto, mentre per un solo giorno praticamente raggiungiamo la metà di questo bottino che mettono, 645 milioni di euro, quando solo perdere il pranzo di Natale rosso significa perdere 300 milioni di euro per questo mondo. Dunque questo è un altro dato di riflessione, poi c'è un attacco al cashback, come dicono dall'Europa, per questa analisi del funzionario. C'è un caso riformista molto interessante, dopo vi dirò. Misura sproporzionata, dicono, del nostro cashback dalla BCE. Il contante non va demonizzato in questa analisi, è vero, è pazzesco Margherita, è così. Il contante non va demonizzato, dicono, dalla BCE, e danno un parere preventivo che a noi BCE non è mai stato chiesto, dicono di questa idea del cashback, che tra l'altro sta andando benissimo. Cioè, intendiamoci, moltissime persone ne stanno approfittando. Poi c'è questa idea, che praticamente danno un'analisi di una sorta di televendita del nostro cashback, ai primi 100 mila, al milione che arriva, si trova qualche soldino in più, e quindi polemica, perché questo cashback, messo in campo dall'Italia, se lo potrebbe permettere soltanto chi è un po' più ricco, questo l'avevamo già detto. E la BCE dice, televendita cashback. Ve l'ho riassunta molto rapidamente, ma insomma, poi è un'iniziativa, bene, funziona, non funziona, non stiamo vietando l'utilizzo del contante, però magari incentivando l'uso delle carte, questo sì. Tre regioni a rischio, ve l'ho detto. L'RT risale. C'era un'altra cosa che vi volevo raccontare. Questo ve l'ho detto. Il riformista, soltanto mi pare, in questi giorni, racconta il tema della Philip Morris. Attenzione qua, ovviamente, quello che si dice, quello che rischiamo in tutto questo, però dice il riformista, ancora oggi in prima pagina col suo direttore Sanzonetti. Attenzione, i 5 Stelle hanno fatto un emendamento, questa finanziaria, col quale volevano ridurre le tasse sulla sigaretta elettronica, che avrebbe portato un vantaggio tra i 200 e i 500 milioni di euro, per esempio la Philip Morris. Poi, dice Sanzonetti, guarda un po', ha dato questa azienda a 2 milioni e mezzo, la Casaleggio. Insomma, fa tutta questa ricostruzione. Noi non possiamo permetterci, diciamo, le querele che può pagare Sanzonetti, io cito quello che lui scrive. Poi, il riformista racconta questo episodio, si corre ai ripari con una parte del governo che dice questo emendamento, che taglia le tasse, non va bene, piuttosto lasciamo queste tasse e quei soldi li utilizziamo per la sanità. Benissimo, poi il governo interviene. No, l'emendamento dei 5 Stelle è giusto. Ancora tutto deve essere votato, ancora non si sa, ma quindi l'orientamento potrebbe essere quello di tagliare le tasse alla Philip Morris per le sigarette elettroniche. Ancora non lo sappiamo, vediamo che cosa succederà. Intanto, ho sentito il sottosegretario Zampa ieri a Radio 24, mentre l'altro viceministro, che è Sileri, dice che se ne deve andare il segretario generale del Ministero della Salute, che non c'era un piano pandemico, che ci sono mini-ministri, persone che si sentono mini-ministri del Ministero della Salute, noi mettiamo 9 miliardi, ma in realtà guardando anche tutte le altre poste del recovery fund si arriva a 14, forse 15, perché sono un po' nascoste altrove, e non mettiamo una cifra tipo 30, 15, 20 miliardi, come lo stesso Ministro della Salute, che voleva in realtà 36, vorrebbe per quanto riguarda la sanità del nostro paese. Comunque inizieremo il vaccino il 27 dicembre, il vaccine day, ha detto il Premier Conte, confermato, ne avevamo parlato proprio ieri. Bene, direi che con la calma possibile, diciamo, abbiamo un po' guardato quello che succede, ho visto veramente tanti di voi arrabbiati, cerchiamo di capire cosa cambierà nelle prossime ore, soprattutto per quanto riguarda il Veneto. Ci vediamo sul sito fernandoavarino.it, grazie e buon sabato. Grazie.